www.marcoparet.com www.marcoparet.com Madonna, madonna Mauro smettila non fai il cazzone madonna non è normale che sono passati questi vicini vedete fuori che cazzo fate ma che coglione che sono dai anche questa cesta si deve portare via ma che non so è proprio portare ma che viene il pane ma che tembano ma che tembano non c'è il cielo ma capite c'è questo non c'è il cielo non smette pronto pronto basta si muove ma ragazza cosa fa? c'ha paura di scorca ah si muove non c'è non c'è ma non c'è non c'è ma ci facciamo legate dov'è quell'altro? ma dov'è Giglio? oh ma no non so dov'è quell'altro? vai lì vabbè sta è stato nel negozio quindi riusciamo a stare in negozio vabbè vabbè vabbè